Siamo con il presidente Paolo Bernabucci e una delle responsabili del GUS Franca Angeli. Volevamo sapere qualche notizia su questo GUS e se ci scioglie anche la sigla. GUS è l'acronimo di Gruppo Umana Solidarietà, è un'organizzazione non governativa che nasce nel 1993, ha iniziato a lavorare in Bosnia durante il dissolvimento dell'ex Jugoslavia. Abbiamo continuato a lavorare poi in Kosovo, in Albania, in Brasile, in Argentina, in India, in Sri Lanka, in Africa. Ora siamo presenti in tutti i continenti e siamo cresciuti nella solidarietà, nelle capacità nostre di poter aiutare sia le persone che hanno bisogno in Italia, sia i poveri nel mondo. Quali sono le attività che svolgete? Noi possiamo suddividere in due grosse branchie, la solidarietà sociale e i progetti di accoglienza che realizziamo in Italia e le attività di cooperazione internazionale che svolgiamo nel mondo. La sede del vostro gruppo dove si trova? Abbiamo diverse sedi, la nostra sede storica legale a Macerata, poi abbiamo sedi a Iesi, a Porto San Giorgio, a Grotto a Mare, a Roma, abbiamo una sede in Sri Lanka, abbiamo una sede in India, abbiamo una sede in Etiopia, dove lavoriamo noi costituiamo delle strutture autonome nel paese che andiamo ad aiutare. All'incirca gli operatori quanti sono che lavorano con voi? Tantissimi, 40-50. Più i volontari e tutti coloro che vengono coinvolti nei singoli progetti. Da Iesi, Cristiana Simoncini per Vallesina TV